Non è vero che il coronavirus attacca solo le persone più anziane. È il nostro caso, quello di Castiglione Fiorentino, dove abbiamo un positivo, già che tutti conoscete, di 34 anni, asintomatico, che è domiciliato presso la propria abitazione e che sta bene. Accanto a questo caso abbiamo una bambina di pochi mesi ricoverata al mayor di Firenze, che insieme alla sua mamma è risultata positiva e che sono sotto controllo dell'ospedale. Sono quattro invece le misure di quarantena attive presso il Comune di Castiglione Fiorentino. Abbiamo un indice di positività a questo virus, direi, soddisfacente sotto la media provinciale e regionale. Dobbiamo continuare così in questo sforzo di limitare le nostre libertà perché andrà tutto bene se restiamo a casa.